Una delle cose più importanti di cui si è parlato oggi è la necessità per le amministrazioni sul territorio di coinvolgere non solo turisti e persone che vengano da fuori per raccontare i posti, per raccontare i prodotti, ma soprattutto i residenti, perché sono quelli che sicuramente hanno più elementi e anche più cose da raccontare su un territorio che vivono tutti i giorni.